Dal Vangelo secondo Giovanni In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli, «Io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da sé stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e il secca, poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli». Pace e bene a tutti, carissimi amici e ben ritrovati al nostro appuntamento settimanale con la parola della Domenica. Siamo ormai giunti alla quinta Domenica di Pasqua e la liturgia ci presenta una pagina del Vangelo di Giovanni molto bella, profonda e intensa. ci parla dell'intima relazione che viene ad instaurarsi fra Cristo e colui che riceve il battesimo nella sua Pasqua e lo fa attraverso un'immagine, un'allegoria. Gesù, per farci comprendere questo profondo mistero e quanto sia vitale questo rapporto con Lui, utilizza un'immagine mutuata proprio dal mondo agricolo. «Io sono la vita vera», ascolteremo, «e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto». Ma aggiungerà anche un invito importante, rimanere in Lui perché Lui rimanga in noi. «E' necessario questo legame, carissimi amici, per portare frutto. Un tralcio da solo non può mai portare frutto, è destinato a finire, a diventare secco e quindi solo ad essere utile per il fuoco, ad essere bruciato. Il tralcio, invece, che rimane attaccato alla vite e fa sì che passi la linfa vitale e il nutrimento, non può che portare frutto». Ecco allora che Gesù si presenta oggi come la vera vite, cioè come colui che davvero può dare vita, può comunicare la vita nuova, non quella che finisce, ma quella che dura per l'eternità. «Ogni cristiano, ogni battezzato, allora, non può che essere un tralcio legato a questa vite. Se Cristo è la vite, noi siamo come quei tralci che devono portare frutti degni del ceppo a cui si è legati profondamente. Se così non fosse, saremmo solo apparentemente uniti alla vite, a Cristo, ma destinati alla fine, destinati a non portare frutto e quindi a non vivere e a non sperimentare la bellezza di quell'invito di Gesù. Rimanete in me e io in voi». Carissimi fratelli e sorelle, il senso profondo della pagina del Vangelo che ascolteremo in questa domenica risiede proprio in questo invito di Gesù a rimanere in Lui. Quest'atto, quest'azione, apre alla fecondità, produce frutti, «E il portare frutto è la caratteristica del vero discepolo, nonché il modo giusto di glorificare Dio. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli». Ecco allora che essere cristiani non sarà semplicemente accettare e professare una dottrina, seguire una lista di norme, rispettare delle regole, ma si tratterà principalmente di rimanere uniti ad una persona, farsi discepoli di una persona. Ascoltare e mettere in pratica le parole di una persona è importante per la nostra vita di fede, far sì che passi in noi l'infa vitale di questa persona. E questa persona, cari amici, è Gesù Cristo, il Risorto, il Figlio di Dio, nostro Signore e Salvatore. Pace e bene e buona domenica a tutti.